Terremoto, notte di paura anche nell'Aretino, Caritas, mobilitata, sostegno, delle popolazioni colpite, Carabinieri di Arezzo, Giuseppe Legato, il nuovo comandante provinciale, il Consiglio di Stato conferma l'eliminazione della tassa per il rinnovo del permesso di soggiorno, soddisfazione dalla CGL, rafforzare il legame tra famiglie e mondo della scuola, sabato iniziativa Montevarchi. Al via la stagione degli otto teatri della rete Aretina, riconosciuta dalla regione come una delle residenze artistiche più importanti della Toscana. Buonasera dal telegiornale di TSD. L'arcivescovo Riccardo Fontana ha nominato questa mattina a padre Ferruccio Perini, cappellano del cimitero urbano di Arezzo. Originario di Castelfranco di Sopra, ordinato sacerdote nella diocesi di Pisa nel 1972, padre Ferruccio, dallo scorso agosto, è guardiano del convento dei frati Cappuccini di Arezzo. Prima del suo arrivo al convento Aretino è stato guardiano anche al convento delle Celle di Cortona e aveva ricoperto lo stesso ruolo al convento dei frati Cappuccini di Certo Mondo a Poppi. Padre Ferruccio Perini inizierà il suo servizio al cimitero di Arezzo domenica 30 ottobre, celebrando una messa alle 16. E parliamo adesso del terremoto, perché quella scorsa è stata una notte di paura anche nell'Aretino. La Caritas è mobilitata a sostegno delle popolazioni colpite. Vediamo il servizio. Notte di paura in tutto il centro Italia per una serie di scosse che si sono registrate a partire dalle 19.10. Le tre scosse più intense hanno avuto una magnitudo di 5.9, 5.4 e 4.5, le repliche di magnitudo superiore al 4. L'epicentro nella zona al confine tra Umbria e Marche, in provincia di Arezzo, non si sono registrati danni a persone o cose. Nel comune di Sansepolcro le scuole riapriranno domani. Erano state chiuse per precauzione con un'ordinanza del sindaco Mauro Corgnoli. Mobilitata la Caritas, siamo e restiamo vicini alle Caritas e alle popolazioni nelle diocesi colpite. Così Don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, ribadisce l'unione nella preghiera e la piena solidarietà e disponibilità di Caritas Italiana a sostenere l'impegno delle Caritas locali che si sono prontamente attivate anche dopo le nuove scosse che hanno acuito ferite e ancora vive. La rete Caritas è pronta a moltiplicare gli sforzi per dare risposte alle nuove necessità, grazie anche all'avvio dei gemellaggi che vedono il coinvolgimento di tutte le Caritas da nord a sud. Intanto la Regione Toscana è pronta ad intervenire nei luoghi colpiti nuovamente dal terremoto. La Commissione Speciale ha contattato la Protezione Civile Toscana in via ricognitiva, chiedendo la disponibilità di una colonna mobile per 250 ospiti. La Toscana ha risposto subito offrendo la propria disponibilità e si è messa in moto. Se verrà chiamata potrà mettere a disposizione una nuova colonna mobile. E continua la visita pastorale dell'Arcivescovo Riccardo Fontana nella zona di Cortona Bassa. Diamo uno sguardo dunque ai prossimi appuntamenti. Domani alle 16.30 ci sarà un incontro con i bambini del Catechismo a Camucia. Alle 17.30 una messa in località Fossa del Lupo e alle 19 un incontro comunitario con i giovani a Montecchio. Sabato 29 ottobre invece il Presule sarà alle 18 a Montecchio per una messa e a seguire ci sarà un incontro con le comunità e i bambini del Catechismo di Montecchio, Rinfrena e Monsigliolo. Chiude la giornata un incontro alle 21 a Camucia con i fidanzati e le coppie che si preparano al matrimonio insieme agli sposi che fanno un cammino ecclesiale. Parliamo adesso dei carabinieri di Arezzo perché Giuseppe Legato è il nuovo comandante provinciale. Vediamo. 42 anni originario di Formia con una importante esperienza presso il comando generale dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito della logistica sia in Italia che all'estero e presso il Ministero della Difesa come capo ufficio ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il colonnello Giuseppe Legato è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Arezzo dove succede al colonnello Luigi Arnaldo Ceri, adesso direttore della nuova scuola per marescialli di Firenze. È un tessuto sociale sano sul quale si può lavorare molto bene e puntare a quella sicurezza partecipata per aumentare la sicurezza percepita. È opportuno che le forze di polizia lavorino insieme a tutte le istituzioni e a tutti i cittadini per aumentare la percezione di sicurezza e per rendere il cittadino sempre più forte e impermeabile a qualsiasi evento esterno che possa turbarne la tranquillità. Dopo aver ricordato che in passato ha seguito i fatti relativi all'evento sismico dell'Aquila e del G8 svoltosi nel capoluogo abruzzese, in merito all'ondata di furti negli ultimi giorni avvenuti in esercizi commerciali ma anche in abitazioni private, il nuovo comandante ha spiegato. Purtroppo è un evento criminoso che colpisce nell'intimo il cittadino. In quest'ottica l'Arma dei Carbinieri, come tutte le altre forze di polizia, stanno svolgendo dei servizi mirati, hanno aumentato nell'ultimo periodo il controllo del territorio per cercare di limitare quelle che sono delle ondate che periodicamente interessano questo territorio e bloccare il fenomeno sul nascere. Una scoperta ad opera di due giornalisti, Franco Mariani e Mattia Lattanzi, autori del libro Firenze 1966, l'alluvione, edito da Giunti, ha portato alla luce dopo 50 anni il fatto che la prima vittima dell'alluvione del 1966 a Firenze è un cittadino del comune di Castel San Nicolò in Casentino. Si tratta di Mario Maggi, morto alle prime ore di quel tragico 4 novembre mentre si trovava per lavoro in via Bolognese. Il suo nome però non è mai stato inserito tra le vittime dell'alluvione, secondo quanto ricostruito da questi giornalisti sembrerebbe che il camion in cui si trovava fu travolto da una frana, il suo corpo venne così sbalzato finendo nel fiume Mugnone. Il suo corpo venne poi ritrovato dalla famiglia solo dopo alcuni giorni all'obitorio dell'ospedale San Giovanni di Dio, tra i morti senza nome e ancora completamente ricoperto dal fango. Il Consiglio di Stato ha confermato l'eliminazione della tassa per il rinnovo del permesso di soggiorno. Soddisfazione da parte della CGL Aretina. Vediamo. Il Consiglio di Stato ha confermato l'eliminazione della tassa per il rinnovo del permesso di soggiorno. Indipendentemente da tipo e durata si torna quindi a pagare 76,46 euro. Il contributo per il rilascio e il rinnovo che variava tra gli 80 e i 200 euro in più a testa è stato cancellato. Era stato già eliminato il maggio scorso da una sentenza del Tar del Lazio che aveva accolto un ricorso di Inca e CGL. A settembre però la Presidenza del Consiglio e i Ministeri dell'Interno e dell'Economia avevano impugnato quella sentenza davanti al Consiglio di Stato che in attesa della decisione aveva reintrodotto temporaneamente il contributo. Tariffe così alte, ha confermato il Consiglio di Stato, violano la direttiva europea sui lungosoggiornanti. Soddisfazione dalla CGL della provincia di Arezzo che con il suo patronato aveva da tempo sollevato la questione. Ma collegato al tema dei migranti c'è anche quello dei profughi e richiedenti asilo. È di questi giorni la notizia che i ritardi nei pagamenti da parte dello Stato centrale agli enti che gestiscono l'accoglienza supera i sette mesi di ritardo causando un ammanco di circa 7 milioni di euro nella sola provincia di Arezzo. Una cifra che le associazioni e le cooperativi hanno anticipato in questi mesi di tasca loro con le relative ripercussioni nei bilanci e nei servizi. L'attività di ricerca scientifica sulle sostanze vegetali complesse e l'innovativo modo di concepire la dualità fra sostanze naturali e artificiali hanno portato la laurea a onoris causa in biotecnologie vegetali e microbiche a Valentino Mercati, fondatore e presidente dell'azienda Abboca di Sansepolcro. A conferire la laurea all'imprenditore già cavaliere del lavoro è stato il rettore dell'Università di Pisa Massimo Maria Augello con una cerimonia pubblica che si è tenuta nell'aula magna dell'Ateneo. Rafforzare il legame tra famiglie e mondo della scuola sabato ci sarà un'iniziativa a Montevarche. Vediamo il servizio di Michele Franca Lanci. Immischiarsi a scuola per occuparsi dei propri figli e della loro scuola. È il progetto lanciato a livello nazionale dal forum delle associazioni familiari e che sarà portato avanti anche in Toscana, in Val D'Arno per un nuovo protagonismo delle famiglie in ambito scolastico. L'incontro per avvicinare i genitori ad un'alleanza consapevole fra famiglia e scuola si svolgerà sabato 29 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 a Montevarchi, presso il punto famiglia Villa Pettini. Il progetto è rivolto all'attenzione dei genitori con bambini in età scolare. L'idea è quella di far crescere la sensibilizzazione e l'interesse a partecipare agli organi collegiali delle scuole. I genitori hanno un compito importante, possono seguire i loro figli ma seguono anche i figli di tutti se si immischiano come l'intestazione del progetto. Normalmente il termine immischiarsi usa in senso negativo, non immischiati in questa cosa qui. In questo caso invece noi chiediamo ai genitori di impegnarsi. Ecco noi desideriamo dare con questo primo incontro una informazione e un po' di formazione ma soprattutto di dare testimonianza attraverso il contributo di una tavola rotonda nella quale figura un dirigente scolastico, due insegnanti e tre genitori che già stanno svolgendo il loro impegno nell'ambito del consiglio d'istituto. Uno è presidente e due sono membri di consigli di classe. Vogliamo raccontare sostanzialmente che questo impegno nella scuola fa parte dell'impegno educativo. I genitori hanno il primato educativo, il rapporto con la scuola è frutto di un patto educativo che va continuamente alimentato e quindi lasciare traccia di questa presenza dei figlioli attraverso questo impegno nelle loro scuole e per lasciare poi una scuola che sia anche per i ragazzi del futuro una buona e una bella scuola. Tra l'altro questo progetto è in corso di realizzazione in oltre 40 città e territori italiani. Abbiamo scelto il Valdarno perché qui come forum delle associazioni familiari abbiamo lasciato una traccia con interventi in quattro istituti comprensivi di questo territorio, di un nostro percorso di educazione, dell'affettività e sessualità nelle seconde e terze medie. Domenica 30 ottobre a partire dalle 16 ci sarà un nuovo incontro del ciclo di incontri biblici che ogni mese si svolgono alla comunità di San Lorenzo a Pomaio e quest'anno dedicati all'approfondimento del libro dell'Esodo. Per chi lo desidera c'è la possibilità di partecipare anche alla celebrazione eucaristica che si tiene alle 12. La Fraternità di San Lorenzo ricorda anche che a partire da domenica 6 novembre l'orario della messa festiva è spostato dalle 12 alle 11. Al via la stagione degli otto teatri della Rete Aretina riconosciuta dalla regione come una delle residenze artistiche più importanti della Toscana. Vediamo di cosa si tratta. Presentata oggi la stagione teatrale della Rete Teatrale Aretina, tra l'altro anche con questo rinnovo di un percorso triennale di residenza artistica. Sì, siamo a un giro di boa, è finito il primo triennio sperimentale e inizia un nuovo triennio del riconoscimento da parte della regione toscana come residenza artistica culturale multipla, si chiama così, che noi amiamo definire residenza artistica diffusa perché si tratta della diffusione in un territorio ampio che è quello della provincia di Arezzo con sei compagnie teatrali che operano in otto teatri della provincia con questo spirito appunto della residenza. Quindi quest'anno l'immagine che abbiamo voluto dare è quella dei teatri abitati perché le nostre compagnie di fatto abitano e fanno dei teatri del territorio la propria residenza, la propria casa. Un'altra iniziativa interessante è quella degli spettatori erranti. Di cosa si tratta? È praticamente un gruppo di spettatori, di cittadini che si autodefiniscono spettatori consapevoli, spettatori organizzati che scelgono un proprio cartellone tra i cartelloni dei sette teatri della provincia di Arezzo andando a individuare alcuni spettacoli creandosi una propria stagione che è trasversale. Quindi erano, girano per tutta la provincia incontrando anche, facendo anche attività collaterali alla visione dello spettacolo che sono l'incontro con le compagnie, con i registi. In due parole, quali sono a suo modo di vedere le sfide del teatro nel territorio aretino? Io penso che la nostra esperienza dimostri quanto il teatro che si cala in una comunità, il fatto che i nostri teatri sono tutti in piccoli centri della provincia di Arezzo, il teatro diventa il fulcro della vita culturale del paese, diventa un luogo vissuto appunto, in questo senso abitato, che si rapporta con il territorio, sia con il tessuto economico, sia con il tessuto sociale, che culturale, con la scuola, così come con le istituzioni e con i cittadini. L'amministrazione comunale di Arezzo aderisce alla tredicesima edizione del Trekking Urbano, una manifestazione nazionale dedicata quest'anno al Giubileo della Misericordia, che vede la partecipazione di 56 comuni in tutta Italia e organizza lunedì 31 ottobre una giornata all'insegna della scoperta della città di Arezzo, con una partecipazione gratuita. Il percorso toccherà alcuni dei luoghi più significativi e più suggestivi del centro storico e sono previste anche delle visite guidate, in particolare alle 15 e alle 17. Con questa notizia si chiude questa edizione del nostro telegiornale, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona visione con i programmi di TSD, arrivederci! Grazie!